buongiorno e benvenuti nell'anteprima di una mattinata di trading live che sarà condotta da Massimo Vita come sempre sono Aga Skrupinska Barberini e sarà con voi durante questa diretta per gestire le vostre domande e tutto quello che vorrete condividere con noi. Massimo di che cosa parleremo oggi? Quali sono i temi chiave di questa giornata? Buongiorno a tutti, buongiorno Aga, è la moda del momento, gli energetici, petrolio, crude oil, anche gas fortissimi, vediamo un po' cosa succede anche oggi, abbiamo visto un aumento di volatilità anche sugli azionari tecnologici molto deboli, saremo in compagnia dei vari ospiti tradizionali che magari vuoi anticipare tu, quindi quattro ore insieme, una maratona però voglio dire sicuramente ci saranno spunti interessanti per tutti lo spero. Sì perché è sempre in sostituzione dell'evento live che spero presto torneremo a fare nella nostra sede di via Massava di Milano quindi ci sarà con noi anche il nostro Fabio Gaudioso per vedere il mondo delle opzioni come vede i mercati e poi successivamente anche Gian Vito D'Angelo. A tra pochissimo.